Sono Alessandro Ferlozio, gestisco il marketing e la comunicazione di CM Works, un'azienda giovane e nuova che si propone di importare sul mercato al cliente finale una falegnameria di qualità. CM Works è uno spin-off di CM Wood, un'azienda che nasce nel 58 a Roma e da qualche anno si è riproposto appunto di offrire sul mercato il cinema a casa, quindi un allestimento di qualità, di falegnameria di alta qualità che unisce poi anche l'artigianato della pelletteria e della tappezzeria. Abbiamo messo a punto una tecnologia di insonorizzazione degli ambienti per cui il suono che è fuori rimane fuori, il suono che è dentro rimane dentro e una tecnologia per rendere internamente il trattamento del suono anecoico in modo che non ci siano distorsioni e si possa godere della migliore qualità possibile, della strumentazione che abbiniamo insieme ad Adeo, azienda italiana che ci fornisce tutti i sistemi audio. Il trattamento acustico è fondamentale per due ordini di motivi, quello interno, interno all'allestimento della stanza perché appunto ci possa essere la massima godibilità della fruzione del suono, esterno perché il prodotto è pensato per andare negli appartamenti, nelle ville dove quindi non è possibile sfruttare la pressione sonora senza dar fastidio ai vicini e per questo motivo che quindi c'è un trattamento acustico in modo che ciò che sta dentro rimanga dentro ciò che è fuori non influenzi e disturbi ciò che è dentro, quindi rumori del traffico, rumori della città in generale.